Come ben sapete le mie due catture più belle che se vi siete persi sono queste le ho fatte col foam quindi la spugnetta e mi sono chiesto perché non provare con un qualcosa di molto simile che magari si scioglie anche nell'acqua come potrebbe essere un marshmallow se state vedendo questo video probabilmente ho avuto dei buoni risultati seguitelo fino alla fine Grazie a tutti Incannati Un nuovo innesco di pato, mais e pellettone al pesce Vediamola, una meraviglia c'è una coda con una punta rossa fuoco che è veramente meravigliosa Grazie a tutti Grazie a tutti Questa l'abbiamo presa con il marshmallow Eccola qua Eccola qua Quindi una bella doppietta di giornata con il buon jumpy Andiamo a liberarlo Andiamo a liberarlo Grazie a tutti Grazie a tutti